E' bello! E' bello! Adesso! Salute! Salute! Salve! Mi chiamo Esther Ascione e sono in grado di riprodurre 75 espressioni umane, quali rabbia, la potenza e nulla senza controllo e disgusto! 15 secondi, entro 15 secondi l'ha detto! Michele, è inutile che fingi, io so riconoscere un vero uomo di colore! Ma cosa? Forse non ha visto che ho un ritmo nel sangue! Proprio nel sangue ce l'ha detto! Franco, vieni qui! E guarda, figa è pieno di cantieri qua! Ma cosa fa? Attento al buco! E comunque la calza estrusse mica si mette così! Ma cosa sta dicendo? Se avessi 30 anni di meno lo farei io! Michele, ho visto che c'è un'altra donna bellissima, ma io non sono scema dimmi la verità! E' lei quel Federico Calcetto! Che hai salvato nella tua rubrica! No no no, quello è Federico Fois! E' un mio amico vero! Certo! Salve, tu sai chi sono io? Esther Ascione! Salve, mi chiamo Esther Ascione! E sono in grado di riprodurre 89 espressioni umane! i quali rabbia, la sera leoni, la mattina coglioni e disgusto! Ecco, dopo un minuto di nuovo! Allora, scusatemi, fa la schiuma ma non è un sapone! Che cos'è? No no no, questa roba no, la prego! Che cos'è? La? La? No signora, no signora! Sono io che non capisco lei! Mi faccia lo spelling! Non faccia la clerici! Questo è un pezzo storico della clerici! Mi salve! Mi chiamo Esther Ascione! E sono in grado di riprodurre 42 espressioni umane! Quale? Rabbia! Questa mano può essere più ma può essere vero! Che disgusto! Eccoci qui! Michelino! Michelino! Prendi il codino! Acciappa il codino! Salvi il calci in culo! Ma il calci in culo con i bambini! E oggi sono carica e rezzia! No, ma sta bene! Diamole fiducia! Ciao la Pascio!